Musica Buona domenica, ben trovati al Consolatore Epilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo dal lunedì 7 agosto, naufragio a largo di Lampedusa, 69 superstiti, 32 dispersi, due morti, fra cui un bambino di due anni e una donna incinta di nove mesi. I due barchini sarebbero partiti da Sfax in Tunisia tra mercoledì e giovedì scorso, entrambi naufragati per le pessime condizioni meteo. Un altro naufragio a Lampedusa, 69 superstiti, 32 dispersi e due morti, di cui un bimbo di due anni e una donna incinta di nove mesi. Le motovedette della Guardia Costiera CP324 e CP319, con a bordo i migranti salvati in mare e due corpi senza vita, sono arrivate al porto di Lampedusa nelle scorse ore. Una motovedetta ha recuperato 29 uomini e il corpo del bimbo ivoriano di un anno e mezzo. L'altra è arrivata al molo Favaloro con 18 uomini, 10 donne e la salva della donna ivoriana incinta di nove mesi che viaggiava con il marito. I due cadaveri sono stati subito trasportati nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Secondo il racconto dei superstiti risulterebbero 32 dispersi, verosimilmente morti, tra le onde. I due barchini sarebbero partiti da Sfax in Tunisia tra mercoledì e giovedì scorso, entrambi naufragati per le pessime condizioni meteo che persisteranno ancora nei prossimi giorni. Tutti i migranti sono subsahariani provenienti dalla costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Senegal, tutti trasportati all'hotspot sui mezzi della Croce Rossa italiana. Due sono stati trasportati in ambulanza al poliambulatorio dell'isola e successivamente con l'elisoccorso del 118 ad Agrigento. Gli uomini della Guardia Costiera con il mare Forza 5 hanno operato in uno scenario complicato con onde fino a 4 metri. Si prevede mare mosso ancora per qualche giorno, dichiara il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Speriamo che si fermino e non vengano indotti a mettersi in viaggio e prendere il largo. Con questo mare molto mosso sarebbe una mattanza. Riaperto il Terminal A di Fontana Rossa Catania ma i disservizi continuano. Arrivano le scuse del sindaco Trantino. Nonostante la tanto conclamata e sponsorizzata apertura in notturna della Terminal A dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, nulla o poco è cambiato in questo fine settimana e siamo al terzo. L'ordinanza dell'ENAC e non della SAC, adottata dopo le opportune verifiche e analisi con le prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente alle condizioni di normalità. Ci hanno detto di metterci qui perché qui ci sono i voli della Ryanair. Quindi speriamo bene perché temevamo che dirottassero, perché molte persone non sono state neanche avvisate di partire da Trapani. Quindi speriamo bene. Questo è veramente rinatteso, questa situazione all'aeroporto che non si capisce niente, che non sentiamo neanche quando ci chiamano. Noi partiamo per Bari alle 11.55. Ho dovuto andare a chiedere quando è che chiamate, perché non si sa niente. È il busso di dentro, non puoi uscire fuori, quasi. Adesso aspettiamo il busso per andare un altro 300 km. Se questa è normalità, la sentiamo dire da 20 giorni si torna alla normalità, ma invece di proclami politici e passerelle, non è forse il caso di cospargervi la testa di cenere e chiedere scusa per queste ulteriore prese in giro? Beh, diamo atto che l'ha fatto il primo cittadino, Enrico Trantino, affermando In un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricuscire un rapporto, basta fare un passo indietro e saper chiedere scusa. Non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che che parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri. Ecco perché io oggi sento di scusarmi, in attesa della tanto sospirata normalità. Accettiamo le sue scuse. Martedì 8 agosto, stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole. Lo ha stabilito il decreto asset approvato dal Consiglio dei Ministri. Vediamo. Stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte aeree nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Questo uno dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri per tentare di frenare il carovoli che ha portato ad un aumento indiscriminato del prezzo dei biglietti aerei. Una soluzione salutata positivamente dal governatore siciliano Renato Schifani che da tempo è in guerra contro il carovoli e ringrazia Roma. Da mesi ormai stiamo portando avanti la nostra battaglia contro il carovoli. Non possiamo che considerare dunque l'intervento del Consiglio dei Ministri da noi più volte sulle citato un importante passo avanti per garantire ai siciliani e ai viaggiatori in generale il diritto a raggiungere l'isola senza dover pagare cifre elevatissime. Dopo le nostre denunce all'antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi. Continueremo senza sosta a lavorare nell'interesse dei siciliani come abbiamo fatto in questi mesi, raggiungendo traguardi significativi come l'introduzione di un terzo vettore sulle tratte Catania-Milano e Palermo-Roma. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha vietato di fissare le tariffe in base alla profilazione web. Abbiamo individuato nell'algoritmo, che realizza una sorta di asta dei voli e in quello che consente la profilazione dell'utente, una prassi commerciale scorretta, se ciò porta pregiudizio per l'utente. Così ha spiegato il ministro dell'impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si agita invece il fronte delle compagnie aeree, a cui non va giù la misura per calmierare i prezzi. Infatti, secondo EICALF, l'associazione che riunisce le compagnie low cost, crea un pericoloso precedente e accusa il governo dell'assenza di un preventivo confronto. A Palermo in calo il valore della diossina dopo gli incendi, secondo l'ultimo bollettino dell'ARPA, il sindaco Lagalla, situazione sempre più rassicurante. Va riducendosi il valore della diossina presente in alcune zone di Palermo dopo gli incendi divampati il 24 luglio e che si erano estesi anche alla discarica di Bello Lampo. Lo rende noto l'ARPA Sicilia, rilevando in una nota che i risultati ottenuti indicano una riduzione della concentrazione di diossina in aria. L'agenzia nei prossimi giorni completerà le analisi in corso su altri campioni di aria, prelevati nei giorni successivi al 30 luglio e avvierà le analisi del top soil già campionato il 3 agosto. Gli ultimi dati pubblicati dall'ARPA Sicilia, che fanno riferimento ai rilevamenti di diossina dal 28 al 30 luglio, fanno registrare un sensibile calo dei composti chimici. Si tratta di risultati già previsti dai tecnici, che fanno sicuramente ben sperare in vista delle ulteriori analisi che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sta svolgendo, confidando in ulteriori diminuzioni dei livelli registrati. La situazione dunque è sempre più rassicurante. Restiamo adesso in attesa di ricevere nei prossimi giorni i primi riscontri sulla presenza di diossina nei terreni. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge, proprio in base a questi dati e ai pareri tecnici dei soggetti preposti, saranno valutate le eventuali modifiche all'ordinanza adottata lo scorso 29 luglio a scopo precauzionale e nel frattempo proseguiranno i controlli di forza dell'ordine dell'ASP negli allevamenti che ricadono all'interno dell'area di 4 km interessata dal provvedimento. Mercoledì 9 agosto, ennesimo naufragio a largo di Lampedusa. 41 persone hanno perso la vita, tra le vittime anche tre bambini. Erano partiti da Sfax in Tunisia. Ancora un naufragio nel mar Mediterraneo. Un barchino salpato da Sfax in Tunisia si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. 41 persone sono morte. A raccontare quella che è stata l'ennesima tragedia sono i quattro sopravvissuti, tre uomini e una donna, che sono stati salvati dalla motonave Rimona che stamattina li ha trasbordati sulla motovedetta CP 327 della Guardia Costiera. I quattro originari di Costa d'Avore e Guinea sono sbarcati a Lampedusa e hanno raccontato ai militari della Guardia Costiera di essere partiti da Sfax in 1945, tra cui tre bambini, lo scorso giovedì. Dopo circa sei ore di navigazione, il barchino in madallo di sette metri si è capovolto a causa di una grande onda. Tutti i migranti, stando a quanto riferito ai superstiti, sono finiti in mare. Solo in quindici avevano un salvagente, ma sono annegati lo stesso. I morti, stando alle testimonianze dei tre uomini e della donna, che sono sotto sciocco, sono 41, tra cui tre bambini. Nella nave, battente bandiera maltese che li ha salvati, nelle motovedette e la Guardia Costiera, hanno avvistati i cadaveri. E questo perché i quattro sono stati soccorsi ieri, dopo più giorni del naufragio e a distanza da dove si è consumata la tragedia. Maxi, sequestro di droga a Palermo. La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo trovato in possesso di 143 kg di hashish e quasi un chilogrammo di cocaina. 143 kg di hashish suddivise in panetti e quasi un chilo di cocaina per un valore al dettaglio di oltre un milione di euro. Questo quanto sequestrato dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha arrestato un uomo di 30 anni. Insieme all'ingente quantitativo di droga, sequestrati anche 17 mila euro. La sostanza stupefacente era nascosta in un box di circa 20 metri quadrati nei pressi di Via dell'Orsa Maggiore, nella zona della guadagna. I baschi verdi del gruppo pronto impiego avevano notato a distanza un soggetto aprire parzialmente la serranda di un box che, dopo essersi guardato più volte intorno, vi accedeva con fare visibilmente circospetto. Nel corso della perquisizione sono stati trovati dei grossi imballi in cordura dal peso di circa 30 kg l'uno, contenenti l'ashish. Anche grazie al tempestivo intervento dell'unità cinofila e l'isir sono stati trovati i panetti di ashish e la cocaina occultati all'interno di uno zainetto posto dentro una cassettiera e in parte sopra una scaffalatura. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del soggetto, dove sono stati trovati 17 mila euro, verosimilmente provento allo spaccio della droga. Nel box era presente anche apparecchio materiale da confezionamento, come una macchina sottovuoto con le relative buste ed etichette adesive con le effigi di Maradona e Scarface. La vendita dell'ashish avrebbe fruttato nel mercato al dettaglio introiti per oltre un milione di euro, mentre la cocaina circa 75 mila euro. L'uomo è stato tradotto alla casa circondariale Pagliarelli. L'emergenza sangue non è una finzione e si ripete ogni estate. Con l'inizio delle vacanze il numero dei donatori diminuisce e la vita per i pazienti talasemici che necessitano trasfusioni costanti diventa più difficile. Lo scorso anno l'associazione Pieracutino ha realizzato un video dal titolo Segui il tuo filo rosso, dona il sangue, proprio per sottolineare l'importanza delle donazioni. È un video che ha per interpreti un vero donatore ed una paziente talasemica e che racconta cosa significa nel concreto donare il sangue. Un video, dice Giuseppe Cutino, presidente della fondazione Franco e Pieracutino, che torniamo a trasmettere anche quest'anno. L'associazione ringrazia il comune di Palermo per essere al suo fianco nella promozione di questo messaggio e per aver accettato di promuovere lo spot anche sui propri canali social. L'amministrazione dichiara il sindaco Roberto Lagalla e al fianco dell'associazione Pieracutino e di tutte quelle strutture sanitarie che in queste settimane fanno appello, invitando i cittadini a donare il sangue. Il periodo estivo è storicamente quello durante il quale il numero dei donatori cala drasticamente. Il comune è sensibile al grido d'aiuto dell'associazione Cutino e invitiamo i cittadini a donare il sangue in tutte le strutture sanitarie dove è possibile mettere in pratica questo semplice gesto che può salvare molte vite, a cominciare dai pazienti talassemici. All'ospedale Cervello, dove opera il campus Franco e Pieracutino, è possibile donare attraverso le associazioni Linfa Rossa e AIMATOS. Giovedì 10 agosto a Palermo aumentano le indennità per sindaco, assessori e consiglieri comunali. La delibera è stata approvata dall'Aggiunta, presieduta da Roberto Lagalla. L'adeguamento era previsto nella legge di stabilità regionale varata lo scorso anno. I aumenti scatteranno dal 1 settembre. Dal 1 settembre il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, percepirà quasi il doppio rispetto a quanto percepisce adesso. 13.800 euro di indennità contro i 7.798 di oggi. E lo stesso avverrà per il vice sindaco, 10.350 euro, anche se Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d'Italia, continuerà a percepire solo l'indennità di parlamentare. Il resto degli assessori avrà il 60% dell'indennità del sindaco, cioè 8.970 euro lordi. Finora ne hanno presi 4.562. mentre raddoppia il gettone di presenza dei consiglieri, che passeranno da 1.200 a 2.400 euro al mese. Gli aumenti riguarderanno anche le otto circoscrizioni, dove i presidenti potranno raggiungere i 3.300 euro mensili e i consiglieri 1.600 euro. Alla vigilia di Ferragosto, una delibera approvata dall'Aggiunta di Centrodestra ha recepito una norma della legge di stabilità regionale votata l'anno scorso dall'ARS per adeguare gli stipendi agli indici Istat. Il sindaco della città metropolitana di Palermo viene equiparato così al presidente della regione, come stabilito dall'assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica e il vice sindaco guadagnerà il 75% del primo cittadino. Una decisione presa l'anno scorso dal governo regionale è molto contestata, che prevede questo tipo di trattamento per i sindaci delle tre città metropolitane siciliane, quindi oltre a Palermo anche Catania e Messina. Infatti la Sicilia è l'unica regione d'Italia dove ogni municipio deve prendersi carico degli aumenti nel proprio bilancio. Per questo è stato previsto un apposito capitolo nel rendiconto del Comune 2023-2025, approvato alcune settimane fa, dove sono state stanziate le risorse necessarie per consentire sia la rideterminazione delle indennità in funzione, sia l'aumento dei gettoni di presenza. Il neopresidente dell'Anci, Paolo Amenta, aveva pubblicamente attaccato la finanziaria parlando di misure clientelari e invitava i deputati a non votarla, parole che ieri Schifani aveva accolto con irritazione e che avevano spinto il governo ad una riflessione sul finanziamento degli aumenti ai sindaci. In mattina però Amenta si è recato a Palazzo d'Orleans ricucciando il rapporto con Schifani e così il presidente ha annunciato che darà il via libera all'emandamento sugli aumenti. Il governo quindi stanzierà 6 milioni. Il tutto costa per l'esattezza 95.103 euro al mese, cioè 10.861,246 euro all'anno. Peccato però che i conti di Palermo traballino da tempo. E parliamo di incendi. La regione ha nominato i commissari per il catastro delle aree bruciate. In Sicilia sono 147 i comuni in adempienti. Nominati i commissari ad acta che sostituiranno le 147 amministrazioni comunali siciliane in adempienti per quanto riguarda l'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catastro delle aree bruciate. Il provvedimento firmato all'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina arriva dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali ed è stato assunto a seguito della richiesta da parte del comando del Corpo Forestale della regione. I commissari fanno parte dell'ufficio ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali. Un atto dovuto, dice l'assessore Messina, ma che assume ancora maggior valore in una stagione che ha visto la nostra isola vittima di numerosi attacchi al patrimonio boschivo e all'ecosistema. I territori bruciati a opera di piromeni incendiari continuano a mostrare la gravità della situazione e il rischio per ampie aree del nostro patrimonio naturale. Nessuno immagini di poter speculare sulle ferite della Sicilia. A livello nazionale il catastro dei soprassuoli percorsi al fuoco è stato introdotto alla legge 353 del 2000 con lo scopo di preservare da speculazioni i terreni colpiti da incendi applicando specifici vincoli ambientali e urbanistici. Il censimento e l'aggiornamento del catastro sono compiti dei comuni e le regioni hanno potere sostitutivo nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato. In Sicilia la materia è regolata dalla legge regionale 13 del 2022 che prevede la nomina di commissari regionali in caso di inadempienza. Estate serena sulle spiagge del litorale Etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica grazie all'operazione Buonestate Sicura che interessa i carabinieri del comando provinciale Etneo con l'obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le vacanze estive. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno avviato ormai da inizio luglio un piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia Etnea che coinvolge circa 900 militari distribuiti nelle 62 stazioni carabinieri presenti sul territorio. Sono quindi impegnati nei servizi di prevenzione generale le gazelle e i motociclisti del nucleo radiomobile di Catania e delle sezioni radiomobili delle compagnie esterne a cui si affiancano gli assetti della CIO Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia e dello squadrone Eli Portato Cacciatori di Sicilia i Carabinieri Forestali e i militari del XII Nucleo Carabinieri Elicotteri di Catania Fontana Rossa e dei reparti specializzati dell'arma NAS e NIL questi ultimi particolarmente attivi in questi giorni per assicurare controlli nei settori ambientali sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla filiera alimentare. l'obiettivo del piano Buonestate Sicura 2023 è quello di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo delle vacanze estive in vista di una sempre maggiore affluenza di residenti e turisti a Catania che stanno già affollando i lungomari le aree commerciali e luoghi di intrattenimento dei centri cittadini e delle periferie. Un'estate sicura quindi per assicurare la possibilità di godersi serenamente l'estate sia a favore di chi resta in città sia di chi parte e lascia le proprie abitazioni incustodite affinché non trovi spiacevoli sorprese al proprio rientro. In particolare nel periodo dell'operazione Buonestate Sicura le vie dello shopping i mercatini rionali i centri commerciali le chiese i siti culturali e i locali di intrattenimento ma anche la stazione ferroviaria centrale la linea del metropolitana le fermate degli autobus e in generale a tutti quei punti nevralgici a maggiore affluenza di residenti e turisti a Catania sono pertanto sorvegliati speciali allo stesso modo sono oggetto dei controlli anche le aree turistiche su entrambi i versanti dell'Etna e quelle marittime come il lungomare di Catania la fascia costiera acese compresa tra Cireale e Cicastello la zona del porticciolo di Ognina e il litorale Giarrese venerdì 11 agosto Malboro di contrabbando dalla campagna sequestrati 70 kg di sigarette da una pattuglia delle fiamme gialle della compagnia di bagheria che ha fermato un corriere lungo la SS 113 all'altezza di Ficarazzi I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno sequestrato una spedizione postale contenente 70 kg di tabacchi illegali in particolare durante una normale attività di controllo economico del territorio una pattuglia delle fiamme gialle della compagnia di bagheria guidata dal capitano Francesco Vitolo ha fermato un corriere lungo la statale 113 all'altezza di Ficarazzi durante l'ispezione sommaria dei pacchi i militari hanno notato una spedizione particolarmente sospetta proveniente dalla campagna diretta a Palermo composta da tre pacchi molto voluminosi con imballaggio visibilmente riciclato e caratterizzati da un intenso odore di tabacco il prosieguo dei controlli ha confermato i dubbi dei finanzieri anche perché è emerso che i nomi del mittente e del destinatario sono risultati essere di fantasia i pacchi sono stati dunque aperti rivelando al loro interno numerose stecche di sigarette di diversi marchi prive del contrassegno del monopolio di stato ulteriori accertamenti hanno rivelato che un altro pacco in arrivo presso il centro di spedizioni era destinato allo stesso indirizzo di Palermo anche in questo caso i finanzieri hanno trovato stecche di sigarette con le stesse criticità si stima che la spedizione avrebbe fruttato oltre 12.000 euro di profitti nel frattempo continuano le indagini sull'origine e sulle destinazioni di queste spedizioni illegali visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania del sottosegretario di stato Prisco per valutare l'attuale assetto operativo e le principali criticità del corpo che continuano ad esserci come spiega Carmelo Barbagallo USB vigili del fuoco Sicilia dopo Palermo visita del sottosegretario di stato onorevole Emanuele Prisco al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania l'onorevole Prisco era accompagnato dal capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile prefetto Laura Lega dal capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco ingegnere Carlo Dalloppio e dall'ingegnere Stefano Marsella direttore centrale per le risorse logistiche strumentali la visita è stata occasione per ribadire messaggi di apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutti i vigili del fuoco che sono stati impegnati oltremodo nelle recenti giornate di emergenza incendi e per annunciare un rinnovo e un potenziamento del parco automezzi di soccorso attraverso l'utilizzo di risorse dedicate del PNRR presente il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania ingegnere Salvatore Taffero hanno inoltre partecipato rispettivamente i dirigenti e delegati dei restanti comandi provinciali della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale oltre alle rappresentanze sindacali di settore e mentre però continuano le problematiche che affliggono il corpo dei vigili del fuoco ascoltiamo l'intervista a Carmelo Barbagallo dell'USB vigili del fuoco Sicilia le problematiche sono rimaste uguali se non peggiorate gli uomini e i mezzi che abbiamo nel territorio siciliano non sono sufficienti le emergenze si susseguono dopo gli incendi sicuramente arriveranno i rubi fragili il nostro territorio è fragile l'Italia è un territorio di disastri annunciati pertanto se non arrivano uomini veri mezzi efficienti ed efficaci se non arrivano i fondi per poterli riparare e non avere infrastrutture nel nostro territorio con una riclassificazione delle sedi tutto rimane vano sabato 12 agosto continua l'emergenza ambientale a Sferracavallo depositato un esposto per denunciare la situazione del golfo e chiedere a certamente intanto la mappa ha presentato al sindaco la galla il primo report sulle criticità riscontrate che hanno determinato l'ordinanza comunale di divieto di balneazione intanto ci tengo a puntualizzare che il problema non è tutto il mare di Sferracavallo il problema è localizzato in un tratto di mare che noi chiamiamo gli scivoli quest'anno è successo qualcosa di particolarmente impattante ancora gli organi preposti stanno cercando di capire dove sia il problema noi pensiamo e non solo noi che in qualche modo le acque che scendono dalla montagna che da sempre vanno a sgorgare in più punti degli scivoli siano stati intercettati da reflui ora sa vedere da dove arrivano questi reflui arrivano dalle case da qualche casa sicuramente sì però siccome la presenza è abbastanza notevole si pensa che ci siano anche degli sversamenti in falda a monte degli scivoli quindi noi abbiamo presentato un esposto col consigliere comunale Antonio Randazzo e il consigliere di circoscrizione Cagliotto abbiamo presentato un esposto in procura appunto per dare una spinta all'indagine affinché si chiarisca definitivamente il problema c'era stata appunto questa ordinanza questo divieto di bagnazione poi è rientrata adesso l'AMAP ha inviato un report un primo report al sindaco sì ce ne sono state tre ordinanze la prima è stata revocata e altre due in diversi punti ma che comunque sono all'interno del tratto di cui parlavo gli scivoli l'AMAP sì ha fatto una dichiarazione nessuno mette in dubbio il funzionamento dell'impianto fognario che adesso è stato trasformato in impianto di sollevamento di barcarello per cui tutti i reflui se ne vanno a monte per carità però c'è qualcosa quindi l'AMAP anche l'AMAP dovrebbe spingere affinché si possa capire questa situazione nessuno mette in dubbio il funzionamento lo ripeto dell'impianto di sollevamento tanto abbiamo fatto affinché entrasse in funzionamento cosa chiedete quindi in sostanza? chiediamo innanzitutto che si risolva prima possibile questa criticità i danni sono notevoli e i danni notevoli sono alle attività produttive c'è uno stabilimento balneare che è stato fortemente penalizzato il danno di immagine e soprattutto che si puntualizzi la ricerca come ho detto io bisogna cercare il problema in quella fascia di terreno che è stato impregnato dai reflui a monte e a valle post emergenza aeroporto Fontana Rossa dalla UGL di Catania un invito a riflettere sull'accaduto è un grazie ai lavoratori la città non sia indifferente ma è più improvvisazione stato e regione siano vicini a che ha subito danni l'emergenza aeroporto di Catania sta lentamente rientrando dopo la riapertura del terminal A e il progressivo riposizionamento dei voli sulla città sono stati 20 giorni di passione non solo per il territorio catanese ma per l'intera Sicilia sul quale la UGL catanese invita a riflettere mentre l'ammontare dei danni rimane comunque incalcolabile ci sono tanti troppi aspetti sui quali ci si dovrebbe soffermare al di là dell'individuazione delle precise responsabilità rispetto a quanto accaduto che spetta la magistratura sulla quale riponiamo piena fiducia dice il segretario territoriale Giovanni Musumeci un aeroporto di lavatura internazionale che macina record e punta ad essere sempre più hub del Mediterraneo non può e non deve permettersi alcuna fragilità strutturale e organizzativa la realtà di Catania conclude non può e non deve rimanere indifferente su quella che è la gestione delle proprie risorse pubbliche come lo è l'aeroporto Vincenzo Bellini perché il destino di un territorio del suo potere economico e di chi ci lavora non possono essere affatto abbandonati nelle criticità ma è più all'approssimazione e all'improvvisazione ed è tutto grazie per averci seguito ancora una buona domenica grazie a tutti grazie a tutti